Johnny ha scelto me Da ora in poi saremo inseparabili Anna, non ti viene in mente che Johnny aveva un padrone? E che quel poveretto lo sta cercando da una settimana E che sta soffrendo come un cane? No, 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 io non sento niente Da piccola aveva un cane, si chiamava Stevie Perché aveva lo stesso sguardo profondo degli Stevie Stevie McQueen Stevie Wonder, era cieco Io e Stevie stavamo sempre insieme Però un giorno l'ho dovuto lasciare a mia sorella per un po' Lì l'ha portato a fare i bisognini, ma senza guinzaglio E Stevie attraverso la strada e lì c'era una betoniera E l'hai vestito? No, era ferma E stava agitando il cemento e Stevie... E... Mi direi che Stevie è diventato un marciapiede? No, una pista ciclabile Da quel giorno non ho voluto più un cane E non sono più andata in bicicletta Però ora c'è Johnny E noi non ci lasceremo più È una frase che ho già sentito questa Però questa volta ci credo Beh, anche Stefano questa volta non avrebbe fatto battute A proposito, dove è finito? E chi lo vede più? Ragazzi, ieri sera l'ho visto che usciva alle 10 E diceva che andava a studiare da un amico Vabbè dai, questa settimana è un esame, no? E ci sarà andato veramente Sì, con la tutina da aerobica di Anneke? Secondo me questa vita da singolo gli sta dando alla testa No, no Ciao ragazzi E noi andiamo a una festa Che fate? Venite anche voi? Non sapete quello che vi perdete? Dai andiamo, dai Non si bevi Dai, ma davvero non riesci a farci un salto, Fra? Dai, mi hanno detto che i biglietti sono quasi finiti Zero Ho quattro lezioni, devo anche parlare con il docente Ma in realtà non sarebbe proprio questo il problema No, è quale allora? Che baglioni? Mi fa schifo E poi mi blocchi la digestione Eh no, scusa, vabbè, a me è più forte di me Ciao E a te Ivan, piace? Eh, tanto Allora ne vai a prendere tu i biglietti? Quali i biglietti? Di baglioni, dai Non ci vuole venire nessuno Su, ci andiamo io e te A te piace, no? Eh? È il suo cantante preferito Grazie, Ivan Ci conto allora, eh? Scusate, ho lasciato qua il mio manuale di... Eh, qui Da un mese Grazie Ma non è che stai studiando un po' troppo, specialmente di notte? Che problema c'è? A me basta una settimana per essere promosso con un bel 30 Oh Tra quanti giorni c'hai l'esame? Eh? Oggi è Tra due giorni Al tempo bastare avanzare per essere bucciato, eh? Ragazzi Come sto? Ho un pranzo importantissimo Un compleanno Ah, sì, eh? E tu che cosa sei? Il dolce? No, il dolce È una torta alta due metri alla marena E come fai a saperlo? Esco io dalla torta E Johnny dove lo metti? In un budino? Oddio, è vero, Johnny Ragazzi, adesso come faccio? Non lo posso portare con me C'è qualcuno che... Io devo andare a comprare i biglietti No, e io devo andare in laboratorio, le cavie In fette, eh? Eh, io a lezione non ce lo porto Eh, no, io c'ho la... La se... Eh, non mi viene niente Grazie Speriamo di farcela Pare siano quasi sauriti No, no, sì, davvero? Per me questo non è solo un concerto Baglioni è il messia della musica Il dio dell'amore Ah, davvero? Pensa che tre anni fa sono andata al concerto con il mio mio amico Lui mi amava E io a me ero mai accorta Poi ci siamo messi insieme Proprio lì E stiamo ancora insieme Sì Davvero? Due, quattro e tre Due per il mitico Claudio Grazie Ciao Ciao E questi me li pappo io Ma come? Sono gli ultimi due Sono miei, dameli Camina, bello Questi valgono oro Ma che cazzo dici? Dai, non vale Guardaci, ho i soldi, dameli Con questi te ne posso dare Al massimo due piripù Tre per mango, tiè Ti prego Per me è una questione di vita o di morte E secondo te quant'è la differenza Tra la vita e la morte In soldi? Bastardo Che? È tutto quello che c'è Sento che cominciamo a razonare Ma non basta, non basta Ti prego Mi sono rimasto veramente I soldi dell'autobus E allora vuol dire che ti farai Quattro passi a piedi Vai te la Marocco E adesso mi spieghi come facciamo a dirlo ad Anne? Cioè sarà troppo duro come colpo per lei Vabbè ragazzi ho capito Ma c'è in fondo Tutto sommato è stata soltanto una Cioè una sfiga dai Sfiga? Ma forse se le dici una tragica fatalità Suona meglio? Come? Tragica fatalità Fighissimo Ecco che le dico Io dico così Johnny Amore Johnny Vieni dalla mamma tesoro Johnny Amore Amore Ciao Anne che Ti devo dire una cosa Dopo ma dove è Johnny? Eh appunto Diciamo che Johnny è È andato a spasso con Bubba e Pier Maria Cosa? Si l'ha lasciato con quei due Perché praticamente no? Lui doveva fare i suoi bisogni No? Bubba e Pier Maria si trovavano lì Che dovevano uscire Allora Oh te l'ho detto Beh spero per te che non gli succeda niente Vabbè già che ci sono Li propongo la pappina Così quando torna La sua mamma lo rende felice Ragazzi E dove sono finiti i bocconcini di pollo di Johnny? Boni? Ma perché non gliel'hai detto? Perché non mi sembrava il caso Dai scusa Mi era tutta allegra Dirle una cosa così brutta Mamma mia Poi in un momento in cui le va tutto bene nella vita Dai Vabbè allora aspettiamo che si rompa una gamba Così Meglio Ivan scusa Volevo sapere se Tutto a posto Ho vomitato tutto Veramente mi riferivo ai biglietti Ah Quelli E niente Tutto esaurito E i pochi rimasti I bagarini li vendono a prezzi stellari Allora non No Io ho un amico Che lavora nel backstage di Claudio Sono E quindi lui me ne rimedia due Gratis Sono contenta Che non li hai presi Perché vedi Stasera Sono impegnata con una persona E quindi Non ho capito Esco con un ragazzo Ma scusa ma non avevi detto che dopo il professore non volevi più saperne degli uomini? Eh sì ma infatti lui è un ragazzo E credimi è speciale E che cosa avrebbe di speciale? Non lo so ancora però Credimi c'è qualcosa di speciale in lui E quindi non lo so ancora cos'è Però vabbè Grazie Sei stato gentilissimo Grazie mille Oh ma stai tranquillo Ma vedrei che arriverà No scusa ma non sarei mica geloso Sì Eccola Brunette Ciao ragazzi Ciao Ho i biglietti per il party dell'anno No, non dovete assolutamente mancare. Ma figurati se non vengo. Guarda, non me lo perderei manco morto. Vero, Adolfo? Sì! Non mi hai detto di avere un esame? Ma chi se ne frega. Senti, io ho sempre sacrificato la mia libertà. Ho sempre fatto quello che gli altri si aspettavano da me. Mo, basta. Certo, ti capisco, Bibì. Anch'io ho sempre fatto quello che gli altri si aspettavano da me. E cioè? Beh, ad esempio, una volta un arabo mi ha chiesto di fare... No, no! Eh, non importa. D'accordo, allora ci vediamo per l'aperitivo, ok? Va bene per l'aperitivo. Adolfo, andiamo. Sì! Quindi, Anne, che il caro Johnny è andato. Non ho capito. Non hai capito. È salito sul tetto, eh? Salito sul tetto. È un modo di dire. Dire cosa? Che è morto. Chi? Johnny! Anne, che è morto! Sei volato giù dalla finestra, capito? Johnny? Ma Johnny non sa volare, è un cane. Per questo si è spiaccicato. Spiaccicato. E addormentato. Hai capito, Anne, che... Certo. Johnny è di là che dorme. Per sempre. Un po' qua, un po' là. Johnny, amore. Johnny, vieni dalla mamma. Johnny. Pronta. Romano dovrebbe arrivare tra un minuto e mezzo. Scusa, Bea, ma Romano è un essere metà uomo e metà sveglia? È solo molto preciso. Non ama improvvisare lui e... Comunque mi fa piacere che sia una persona puntuale. Dà molta sicurezza. Come la morte. E magari è uno di quelli che sanno molte cose. Quasi tutto. Una sorta di enciclopedia umana che non sbaglia mai. Come la morte. È molto colto. E senti, per caso gestisce un'azienda di famiglia. Come hai fatto a indovinare? Bea, questo è il ritratto di Giorgio, il tuo ex fidanzato, te lo ricordi? Ma che dici? Solo perché hanno un carattere simile. Per il resto non hanno assolutamente niente in comune. Ma proprio nulla. A parte farò sicare Ivan. Lui è Romano? Sì, grazie. Attento! Che? Ma stavi per schiacciare John? Oh, una volta c'era l'amico immaginario. Adesso c'è pure il cane invisibile. Sì, almeno questo qui non piscia dappertutto. Leo! Eh? Guarda che Johnny ha fame, mi porti qualcosa da mangiare? Il vassoio è pieno di cose per Johnny. Ma io non vedo niente. E io non vedo Johnny. Oh ragazzi, avete visto Brunetta? Abbiamo un appuntamento qua per andare a una festa. Una festa? Un'altra festa? Ma domani c'è un esame. Beh, allora? Beh, di solito uno prima di dare un esame non fa tardi. Allora ragazzi, quello che faccio sono affari miei, eh? Non siete né voi né altri a dirmi quello che devo e quello che non devo fare. E d'ora in poi, più nessuno deve intromettersi fra me e la mia libertà. È chiaro? Ciao ragazzi. Ciao. Scusami. Ma ho perso un sacco di tempo per mollare Adolfo. Vi siete lasciati? Sì. Non lo so Romano, è successo tutto così in fretta. Oggi è stato un sonno, però domani che cosa accadrà? Ti vengo a prendere le 20 e 15 e poi ho prenotato per due ristorante. Non in questo senso. Ho capito. Ti chiedi se durerà? Se i nostri sentimenti resisteranno alla prova del tempo? Che? Beh, guarda, secondo una recente statistica il 72% delle coppie ha risposto sì, il 23% no, il 5% altro. Ma stiamo parlando di noi due. Tu mi hai appena detto che devi ancora lasciare la tua fidanzata. Correggo, ex fidanzata. E poi, quella è una storia finita da tempo. Abbiamo tirato avanti solo per abitudine. Facciamo così. Appena torna a Bologna, glielo dirò una volta per tutte. Sei sicuro? È ovvio, tu sei sempre sicuro di tutto. Quando si è capito che la persona non è quella giusta, dobbiamo cercarla altrove, l'amore e la felicità. Ma questo significa avere il coraggio di aprire i propri orizzonti a 360 gradi. È facile da dire. Hai ragione. Anche 320 possono bastare. Se lo dici tu. Senti, io adesso vado. Vai, non qui. Non ci vede nessuno, non ti preoccupare. Mi dispiace, non ci siamo. Non ci siamo. Professore, la prego, mi dia la possibilità di rimediare. Ma cosa le sta succedendo? Le mancano una manciata di esami. E qui vedo che la sua è una delle medie più alte della facoltà. È la più alta. Ha maggior ragione. Ma vuole rovinarla per un esame. Mi dica, ha dei problemi in famiglia? No, 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 no. Con la fidanzata? No, 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 guardi, non si tratta di questo. È che sto attraversando un periodo un po' così, ecco. Ah, capito. Lo diceva anche mio figlio. Poi per fortuna ha smesso. E di dirlo? Di farsi. Johnny, amore, andiamo a fare i bisognini? Johnny. Annika, scusa, possiamo parlarti un attimo? Sì, sì, di pure, Johnny, amore. Ma dove sei finito? Al creatore, Annika. Oh, ragazzi, mi avete stufato. Johnny sta benissimo, sta soltanto giocando a nascondino. Johnny? Soltanto che non può più andare a fare tana, vero? Annika, negare l'evidenza non serve a niente. Johnny è... Ma, scusi, lei ha dei poteri magici? Sì, ma li uso solo per parcheggiare in centro. Eh, lui è il signor Mario e fa il camionista. E quando Johnny ieri ha spiccato il volo fuori dalla finestra, lui passava qui di sotto. Che con un carico di piumini svedesi. Lei vuole dire che il perito è Johnny? Ha fatto centro. Esatto. Poi sul collare c'era scritto l'indirizzo, eccoci qua. Oh, porca miseria. Cioè, a vederlo non sembra, ma sto cane c'ha proprio un gran culo, eh. Chissà da chi ha preso, eh. E al professore che gli hai detto? Gli ho risposto che sei ritornato alla prossima sessione, me ne sono andato. Mi dispiace tanto. Stefano, cioè non sai quanto ti posso capire? A me è successa la stessa identica cosa la prima volta che uno mi ha dato buca. Beh, Mattia, se permetti c'è una bella differenza, eh. Cioè, oddio, l'unica differenza che c'è stata è quella che magari io non ho dovuto aspettare la sessione dopo per poi riprovarci. Ma l'unica differenza è che io ho imparato qualcosa. Se avessi imparato qualcosa ogni volta che ho cannato un esame sarei l'enciclopedia britannica adesso. Io ho imparato che cos'è per me la libertà. Che non è fare quello che non ho mai fatto, ma è continuare a fare quello che ho sempre voluto fare. Insomma, io mi voglio lavorare con il massimo dei voti. Esame dopo esame. E poi si vedrà. Dai, comunque prendere un brutto voto piuttosto che essere bocciati non è la fine del mondo, eh. Bocciato? Ma io ho rifiutato un 28. C'è Stefano? Che c'è? Ma basta al culo, vai! Bea, scusa. Romano. Posso dirti una cosa? È arrivato il colone, è arrivato. C'è qualcosa che non va? No, 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 anzi, è successa una cosa bella. E anche tu ne sarai felice se mi vuoi bene. E sarebbe? Ricordi, ti dicevo di sentire l'esigenza di allargare i miei orizzonti? Sì, a 360 gradi. Brava, appunto. Compiendo un giro di 360 gradi, sono tornato al principio. Cioè Daniela, la mia ex ragazza. E oggi è arrivata e ci siamo rimessi insieme. Ah! Io volevo ringraziarti di cuore per avermi aiutato in questa presa di coscienza. E ti è grata anche lei e te la vorrei presentare. Posso? Bea. Lei è Daniela. Lei è Daniela.